ben ritrovati a tutti ragazzi tanti mi hanno chiesto di recensire un tv box ebbene si eccolo qua è arrivato fresco fresco da amazon italia ovviamente parliamo del m9c professional tv box in vendita ovviamente sul maggiore store del mondo quindi amazon ma parliamo di un prodotto con tanta tecnologia perché parliamo di un quad core dotato di sistema operativo android 6.0 mesh melon e quindi questo processore da 64 bit ci consente di poter vedere tutti i film e anche poter giocare direttamente collegando una tassiera e un mouse oppure un gioco iscrittamente compatibile con android ma la possibilità di poter utilizzare codi e quindi vedere tutti i film anche internazionali per imparare bene la lingua per far imparare bene la lingua i nostri ragazzi e anche per noi che dovremmo imparare altre lingue parliamo di un sistema che legge anche file 4k ultra hd processore quad core codec cosa molto importante perché molti smart tv non li leggono assolutamente codic h e bc h 265 che funziona davvero bene scusate se leggo ma voglio ricordarvi che il processore amlogic è un co s 905 x quad core arm ex arm cortex a 53 scusate il gioco di parole e qualche piccolo inceppamento ovviamente perché non sono un recensore che parla di continuo anche se sono molto veloce però voglio anche ricordarvi che non è una g più grafica ma di 450 che riesce a gestire abbastanza bene quelli che sono i videogiochi che possiamo trovare direttamente sullo store android ma il collegamento attraverso mouse come dicevo tastiera ha anche il wifi con draft 10 quindi molto veloce 300 megabit al secondo e abbiamo anche una scheda di rete lg 45 10 100 quindi riesce a trasferire facilmente attraverso la rete cablata i contenuti hd anche 4k senza rallentamento con wifi probabilmente avete qualche rallentamento ma con il cablaggio di rete assolutamente non ci sarà alcun rallentamento scusate questa lunga premessa ma facciamo l'unboxing di questa confezione perché voi questo stai aspettando ricordo che a un gigabyte di ram android 6.0 ultra hd e una rom da 8 gb che però va assolutamente espansa perché è poco assolutamente ve lo dico in anticipo quindi mettete il ragno in pace dovete procurare una scheda di espansione andiamo a fare il nostro unboxing lo faremo insieme in diretta poi dopo faremo un test di funzionamento direttamente sul televisore ecco qua il nostro team box molto molto compatto guardate qui quanto è bello eccolo vediamo insieme quelle questioni collegamenti avanti abbiamo ovviamente il sistema di ricezione infrarossi lo vedo insieme a voi quattro piedini anti scivolamento molto leggero in mano si tiene bene ingresso per alimentazione proprietaria abbiamo uscita hd ovviamente abbiamo anche un ingresso ab e quindi in questo caso in questo caso qui c'è l'uscita o meglio l'ingresso per l'alimentazione ma la cosa che ho notato che è molto carina ha un uscita ottica ottica significa che riesce a lanciare direttamente nel vostro amplificatore di casa il segnale 5.1 per l'audio e questa è una cosa che mi fa veramente felice perché così non devo sempre regolare lr con questo direttamente col cavo ottico lo sparate direttamente all'interno del vostro amplificatore professionale potete sentire i film veramente in audio anche 7.1 perché il sistema ottimo vi trasmette tutti i canali audio ma vediamo l'interno della scatola cosa c'è scusate mi sono dazzato un pochettino ma c'è tutto questo parterre di accessori già si capisce benissimo prima cosa eccolo qua telecomando molto essenziale classico android bisogna assolutamente usare una tassiera con un mouse oppure con un roll laterale perché altrimenti impazzire perché per scrivere sulla tassiera ci vogliono due ore alimentazione molto compatto l'alimentatore cosa positiva cavo avi ovviamente questo vi consente di poter collegare direttamente con quello spinotto che vi ho detto prima eccolo qua tipo jack wolf inserite qua potete collegare i vostri televisori vecchi analogici che comunque almeno non si usano più via è una cosa molto importante eccolo qua 5 euro risparmiati cavo hdmi cosa importante così non dovete scendere neanche per il cavo hdmi perché non lo potete collegare con il vostro televisore andiamo un pochettino a vedere il funzionamento ma non prima di aver detto che all'interno di questa scatola infilato proprio sotto ci abbiamo il nostro libretto di istruzioni molto semplice in inglese ovviamente in inglese ma ci spiega un pochettino come collegare il tutto lateralmente abbiamo due uscite usb e abbiamo l'ingresso per l'espansione di memoria trans flash micro sd card ci possiamo mettere una bella 64 giga 32 128 così all'interno di questo lettore avremo completamente tutto assolutamente l'uscita usb è fondamentale per poter collegare hard disk esterni anche se utilizzo gli hard disk di rete quindi ormai sono busoletti anche lo stacca e attacca degli hard disk andiamo a vedere un pochettino il funzionamento sul nostro smart tv per vedere almeno l'interfaccia abbiamo proprio tutto a fare l'unboxing del nostro sistema l'abbiamo collegato al nostro smart tv vi faccio vedere un pochettino qual è l'utilizzo io in effetti non ho fatto altro che prendere una tastiera eccola qua una classica trust collegata direttamente con una spinetta wifi vicino al nostro team box perché possiamo utilizzare anche il telecomando ma è molto più complicato io preferisco sinceramente utilizzare una tastiera direttamente wifi questa è l'interfaccia che si presenta l'accensione quad core i settaggi sono molteplici molto completo come settaggio ho già provveduto a collegare il nostro smartphone tv box direttamente alla nostra televisione andiamo a spegnere e faccio vedere la prima accensione come avviene andiamo a fare la prima accensione del nostro tv box eccolo qua si presenta my box vediamo un pochettino i tempi di accesso ecco come si presenta la nostra interfaccia il sistema già connesso la rete già impostata la lingua io voglio ricordare che utilizzo questa tastiera trust con tanto di track ball laterale destro perché preferisco la tastiera questo mouse ma vediamo un pochettino l'interfaccia la funzione eccola qua molto veloce molto rapida i settaggi sono molteplici la possibilità di poter già impostare la rete che è già stata accablata ovviamente andiamo indietro torniamo indietro al nostro la nostra scrivania abbiamo le nostre app installate eccole qua diamo ciao pc più id che ci danno informazioni per quanto riguarda la velocità di questo processore vediamo un pochettino queste sono le informazioni che ci servono per vedere il funzionamento usare torniamo indietro vi faccio anche vedere è il nostro sistema per poter leggere i video codi e salato my cloud che ci consente di poter utilizzare una vista di rete varie opzioni andiamo direttamente usciamo da qui e andiamo direttamente a vedere l'impostazione del dispositivo abbiamo lateralmente a sinistra la possibilità di poter salvare vari dispositivi e quindi poter vedere anche video e musica attraverso la rete questo è il sistema my cloud che abbiamo installato come app codi per i film anche internazionali media center vediamo un pochettino come funziona vedere direttamente i vari protocolli di lna e anche ovviamente altri tipi di sistemi anche il digital media player direttamente andiamo direttamente in macbook live andiamo ad aprire ad esempio i video faccio vedere questo il funzionamento è molto semplice molto immediato e molto veloce vedete potete vedere i film attraverso la rete ma anche ovviamente potendo utilizzare codi io sto facendo una panoramica molto veloce andiamo direttamente all'interfaccia codi eccola qua per poter vedere canali internazionali per poter vedere film anche in lingua straniera ovviamente poi bisogna scaricare quelle che sono i contenuti direttamente andiamo prendiamo uno a caso andiamo direttamente in video vedete molto fluido assolutamente il sistema di settaggio molto rapido il sistema di settaggio possiamo vedere quelle che sono le clip ma la possibilità di scaricare i vari addion assolutamente vediamo uno a caso vediamo un pochettino come funziona la velocità di accesso in questo caso sta lavorando andiamo ad aprire un video a caso ovviamente il sistema viene visto molto fluido molto interessante come utilizzo ovviamente si presta alle varie regolazioni questi questo processore quad core funziona bene 64 bit quindi non mi resta che salutarvi e invitarvi alla chiusura della nostra recensione del nostro tv box allora ragazzi abbiamo fatto l'unboxing davvero lungo questo unboxing molto gridato chiedo scusa per la mia voce è troppo alta abbiamo visto un pochettino l'interfaccia sul nostro smart tv ovviamente è stata una spolverata questa recensione sarà work in progress perché ci saranno delle novità quindi con questa recensione io ho concluso chi vuole si iscrivevo farlo a gianluca.atanasio.it sono a vostra disposizione eventualmente per domande che volete fare su questo sistema tv box android 6.0 mash melon che comunque funziona bene e ci può dare delle belle soddisfazioni ovviamente aspettiamo anche implementazioni aggiornamenti di firmware e quant'altro ciao ragazzi ci vediamo la prossima accensione